Scorriamo un po' di dati per, come dicevi te, per dare, intanto descrivere il contesto, diciamo, stiamo parlando di strategie di rigenerazione territoriale e quindi capire un attimo dove in questo caso il settore dell'energia sta andando, dove andrà nei prossimi 10, 15, 20 anni diventa fondamentale. Allora, il punto di partenza, chiaramente siamo in Italia, vediamo cosa è successo negli ultimi anni in Italia in termini di emissioni di gas serra, che è il parametro guida delle politiche climatiche energetiche e questo in giallo vedete l'andamento delle emissioni nazionali che dal 2005 sono cominciate a scendere con, diciamo, alcuni picchi verso il basso, per lo più segnate da altrettante crisi economiche, l'ultima è in realtà la crisi pandemica che ha ridotto le emissioni, diciamo, in maniera significativa, ci ha portato per la prima volta sotto soglia 400 milioni di tonnellate, però sia 2021 sia stime 2022, anche se questo inverno, diciamo, mite, per usare un efemismo, probabilmente ci aiuterà in questo senso, hanno mostrato di nuovo un trend negativo, cioè rialzo delle emissioni e quindi siamo ritornati praticamente a livelli pre-pandemia. Quella che vedete sotto invece è la traiettoria, diciamo net zero, la traiettoria che dovremmo ottenere per rispettare l'obiettivo 2030 europeo e per arrivare alla neutralità climatica che noi come Italy for Climate, questa è un'elaborazione appunto di Italy for Climate, che è l'iniziativa della Fondazione su Clima, abbiamo voluto anticipare al 2045 come proposta e in ogni caso, anche se fosse al 2050, quello che è evidente è che siamo abbastanza fuori traiettoria e quindi che dovremo recuperare soprattutto i prossimi otto anni, perché dall'ultimo puntino giallo a quello blu del 2030 ci separano praticamente otto anni, ci aspetta, come dire, un percorso impegnativo. Questo è il quadro degli obiettivi climatici dell'Unione Europea, che probabilmente avete già discorso comunque molto velocemente, il framework europeo sull'energia e il clima si basa su tre target strategici che sono le emissioni di gas serra e quindi un obiettivo di riduzione del 55% rispetto al 90%, una riduzione dei consumi di energia, quindi efficientemente energetico del 9% rispetto allo scenario previsionale al 2030, che magari può sembrare poco ma in realtà non lo è, è molto sfidante, e poi un 40% di consumi energetici soddisfatti dai fonti rinnovabili, quindi vuol dire più o meno raddoppiare i livelli attuali. Che cosa dovrebbe fare l'Italia per stare, diciamo, nel solco degli impegni che ha preso innanzitutto a Parigi, una conferenza del 2015 in cui ha sottoscritto l'obiettivo di raggiungere la naturalità climatica entro metà del secolo e poi per rispettare i target europei. Diciamo, noi abbiamo, noi come Italy for Climate abbiamo presentato, proprio qualche settimana fa, una roadmap aggiornata che, come vi dicevo, porterebbe a ridurre le emissioni, a tagliare di oltre il 55% nel 2030, in realtà arriviamo a circa il 60% e poi di arrivare ad azzerarle, ad azzerare le emissioni, in realtà come vedete adesso spiego velocemente di grafico, nel 2045. Il target, anche questo non so se stavo detto questa mattina, è sulle emissioni nette, quindi è sul bilancio tra le emissioni residue che chiamiamo inabbattibili e quelle che, diciamo, le emissioni negative, cioè gli assorbimenti che possono essere sia assorbimenti naturali, chiamiamoli così, l'UCF, cioè da cambio di iso del suolo, quindi foreste per intenderci, ma possono essere anche assorbimenti tecnologici, quindi legati a meccanismi di cattura e poi il toccaggio e l'utilizzo, insomma varie strategie. Però quello che è importante vedere qua è che noi abbiamo le emissioni oggi, 2020 chiaramente è un anno particolare, quindi diciamo se volessimo vederle veramente come sono oggi sarebbero più simili al 2019 e rispetto al 2020, ripartite tra i diversi settori, quindi quanto emette l'industria, che è il primo settore per emissioni, quanto emettono gli edifici, il secondo settore per emissioni, poi i trasporti e infine l'agricoltura e poi come dovrebbero essere al 2030, e addirittura al 2045, che uno può pensare ma perché guardare al 2045 e già al 2030 mi sembra lontano, invece quando si cominciano a fare scelte anche in termini di investimento, imprenditoriali, industriali, lo stesso 2030 comincia a diventare un po' stretto, si parlava prima di energia, di fonti di energia e di nucleare, chiaramente il nucleare è una tecnologia che realisticamente al 2030 non ha nessuna prospettiva in Italia e quindi capire cosa succede anche dopo, diciamo, è importante anche per inquadrare quell'argomento su cui, come diceva Remondo, faremo un convegno presto ad hoc. Quindi questo per vedere che, per farvi vedere che per stare dentro quella traiettoria, tutti i settori dovranno subire riduzioni significative, al 2030, diciamo, in particolare agli edifici, agli edifici tutti residenziali, che rappresentano la maggior parte di quelle emissioni, ma anche commerciali, pubblica amministrazione e quant'altro, sarà richiesto un grandissimo sforzo, ma comunque un po' a tutti i settori, un po' meno all'agricoltura che in realtà non ha emissioni di tipo energetica, cioè quelle emissioni che vedete là non sono emissioni solo in piccolissima parte dovute alla combustione di gas, petrolio, gas e petrolio essenzialmente, ma sono emissioni cosiddette non energetiche, come anche parte di quelle industriali, che sono le uniche emissioni che rimarranno al 2045 praticamente, perché le emissioni lato energia dovremmo averlo risolto attraverso le fonti rinnovabili, l'idrogeno e tutta una serie di tecnologie, rimarrà una quota non banale, parliamo di 50 milioni di tonnellate, di emissioni che derivano da allevamenti e agricoltura, fertilizzanti e quant'altro, da una parte da processi industriali che non riusciamo a riconvertire, questi dovranno essere appunto compensati in qualche modo, assorbiti. Quindi chiaramente vuol dire in 25 anni, ma già in meno di 10 anni, nel 2030 il passaggio è veramente impegnativo, bisognerà cambiare moltissimo nel nostro modo di produrre e consumare energia. Ecco invece il quadro energetico e questo altrettanto, diciamo adesso, per chi non è appassionato di grafici, magari può essere faticoso, però diciamo così, l'altezza delle torri ci indica il livello dei consumi di energia in Italia, quindi 90, 2000, 2010, 2020, come dicevo il 2020 è un anno anomalo, quindi in realtà i consumi del 2021-2022 sono a metà tra il 2010 e il 2020, quindi sono più alti, e poi vediamo il 2030 e il 2045. Intanto diciamo chiaramente i consumi si dovranno ridurre e dovremmo arrivare intorno agli 80-85 megatep al 2045, noi oggi viaggiamo intorno ai 110-115, quindi, ripeto, può sembrare poco, in realtà è forse la sfida più importante, quella dell'efficientamento. Dall'altro lato cambia completamente il colore, il mix, il pantone, diciamo così, delle torri e vuol dire che cambia il mix energetico, quindi quello che oggi è un mix, diciamo, in cui le fonti rinnovabili, elettriche e non elettriche, che vedete in verde, in rosso, in basso, rappresentano circa un 20% del consumo lotale, il resto è sostanzialmente combustibili fossili, a cominciare da gas e petrolio, e dovrà cambiare molto fino ad arrivare al 2045, in cui vedete la gran parte del mix sarà dominato da rinnovabili, prima di tutto elettriche, da rinnovabili termiche, da idrogeno e poi da un po' di biocarburanti, e poi ci sarà una quota di gas e petrolio che appunto dovrà diventare residuale. Molto velocemente un'altra questione che riguarda, che chiaramente che attiene al tema del cambiamento climatico, anche se qui mi pare di capire la tavola se non si entra più sul tema energia, comunque chiaramente è quello dell'adattamento, quindi quando parliamo di politiche climatiche dobbiamo sempre tenere a mente anche il tema dell'adattamento che voi, diciamo, nella vostra elaborazione sicuramente terrete opportunamente appunto in conto. Questo grafico non è per far finire mal di testa, ma è un grafico dell'IPCC che serve solo per raccontare il fatto che se io a un certo punto comincio a ridurre le emissioni come ci auguriamo avvenga prestissimo a livello mondiale, dovrebbe venire da qui al 2025 secondo le previsioni della IEA, speriamo che siano giuste, e le taglio anche velocemente come dovremmo fare, vedete la curvetta marrone, adesso non so in sala quanto si vedano questi grafici, mi auguro che insomma un po' li vediate, poi per stabilizzare i parametri climatici, quindi in viola la concentrazione di CO2 e in rosso soprattutto la temperatura, ci vogliono decine di anni o addirittura secoli, questo vuol dire che la quantità di anidride carbonica che in questi decenni abbiamo scaricato in atmosfera rimarrà comunque per decadi e purtroppo anche se da domani diciamo avessimo un interruttore potessimo spegnere le emissioni, cosa che purtroppo non possiamo fare, e comunque l'aumento della temperatura resterebbe tra noi, quindi quello anche i fenomeni che abbiamo vissuto anche quest'anno purtroppo ci li porteremo avanti a lungo, quindi un territorio deve imparare ad adattarsi. Adesso venendo diciamo un po' più al tema, cioè la strategia di un territorio come quello in cui siete, e purtroppo io no, e me ne dispiace, a quali sono gli ambiti che possiamo considerare strategici, quelli prioritari, quelli da cui diciamo idealmente per scrivere una strategia energetica territoriale io partirei. Sicuramente c'è un tema, l'abbiamo visto all'inizio, che è quello dell'efficientamento energetico. Le nostre case, in generale gli edifici, però in primo luogo le case, sono responsabili di circa la metà del consumo di energia a livello nazionale, e questo a livello territoriale non è molto diverso, anzi in realtà nel vostro caso probabilmente è un dato ancora più alto, perché diciamo non avete grossi consumi industriali che lo compensano, e quindi è sostanzialmente il primo ambito su cui agire. Ora, non è semplice, abbiamo avuto l'esperienza del 110%, di cui appunto forse avrete parlato durante la mattina, che ha funzionato in termini di efficientamento energetico solo parzialmente, e si possono mettere in campo strategie per fare sicuramente molto meglio. In particolare collegando, diciamo, come dire, il riquadro in alto a destra con quello in basso a sinistra, cioè integrando efficientamento degli edifici con il tema dell'elettrificazione dei consumi. Diciamo, se vogliamo rispettare la traiettoria che abbiamo visto prima di riduzione delle emissioni, noi dobbiamo puntare a elettrificare tutti i consumi elettrificabili che abbiamo, e quelli domestici sono consumi facilmente elettrificabili. Oramai ci sono tecnologie che sono efficienti, che funzionano bene e che sono in realtà anche economiche nel loro ciclo di vita, anche se, diciamo, richiedono un investimento iniziale che generalmente è più alto rispetto a altri impianti tradizionali. Quindi il mix di queste due cose, cioè dell'efficientamento delle abitazioni e della loro elettrificazione nei consumi, ci consentirebbe già oggi di realizzare delle case che sono, diciamo così, pronte per le zero emissioni. Potrebbero essere a zero emissioni, se ricissime, integrare con il più possibile fotovoltaico, chiaramente in questo contesto che è l'altro pilastro, diciamo, di lavorare, anche in territorio come il vostro. Esistono soluzioni anche architettoniche oramai che si integrano molto bene anche in zone, in contesti storici difficili, ma anche se non riusciamo a integrarle con fotovoltaico locale, comunque una volta che è elettrificato una casa, l'azzeramento, la decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, che dovrà arrivare a zero emissioni al 2035, comporta automaticamente che poi la tua abitazione, diciamo, risulta a zero emissioni, oltre a essere, diciamo, anche in alcuni casi anche più confortevoli. Tenete conto che qui i vecchi problemi, io ho visto che sulla strategia si punta molto anche sull'informazione e la sensibilizzazione. Ecco, su questo aspetto qui è un tema importantissimo perché spesso verso soluzioni nuove c'è diffidenza e quindi il principale ostacolo non è tanto economico, tecnico, ma è di natura culturale, di conoscenza proprio della tecnologia e di come debba funzionare il processo anche per far entrare dentro un'abitazione per esempio delle pompe di calore. In realtà questi sistemi funzionano e ci sono sistemi anche aria-acqua che ormai sono diventati molto efficienti anche in contesti climatici dove le pompe di calore precedentemente lavoravano male, quindi in contesti come il vostro, anche diciamo montani con temperature fredde eccetera, quindi insomma la soluzione c'è. Esiste un problema oggettivo di sensibilizzazione e istruzione, diciamo, anche della cittadinanza, ma per esempio degli amministratori di condominio dove ci sono, o la realizzazione di uffici di supporto dedicati a questo per accompagnare le persone in questo processo. Sì, ho chiuso. Poi un altro tema è quello della geotermia che nel vostro territorio chiaramente non può mancare, ma di cui non parlo perché ne parleranno altri molto più esperti dopo di me, però teniamo conto che nel vostro caso avete un potenziale molto rilevante da questo punto di vista e che non è solo la geotermia per la produzione di elettricità, ma come penso dopo si spiegherà meglio, ci sono anche altre forme di sviluppo di questa energia che possono portare a ridurre i consumi termici. E poi l'ultimo tema è quello delle biomasse che volevo toccare perché chiaramente il contesto in cui siete è un contesto vocato da questo punto di vista. Ora, il punto è che su questo tema qui, diciamo, è un tema molto delicato ed è un tema in realtà in evoluzione sul quale anche a livello europeo si stanno ancora definendo proprio in questo momento le strategie di indirizzo. Diciamo che tenete conto che metà, circa metà delle fonti rinnovabili che consumiamo in Italia derivano da biomasse, diciamo in gran parte da legna, quindi diciamo è una componente molto importante del nostro mix verde energetico nazionale. Però l'utilizzo delle biomasse ha alcune controindicazioni, c'è un tema di qualità dell'aria e l'Italia è un hotspot da questo punto di vista, quindi oltre ad essere soggette in frazione europea per mancato rispetto dei limiti di concentrazione in alcune città, comunque abbiamo una situazione di criticità che significa una situazione sanitaria difficile e il riscaldamento domestico con le biomasse contribuisce più di quanto uno potrebbe aspettarsi a questo aspetto qui e l'altro è quello che con queste biomasse in realtà si potrebbero fare altre cose che non sono necessariamente legate all'utilizzo di energia. Un tema sicuramente importante è quello della gestione del bosco e della ricostruzione della filiera del bosco. Spesso si è lavorato come dire spingendo sul tema biomasse e uso energetico per tirare l'economia del bosco. Ecco diciamo non necessariamente questa è la soluzione migliore, chiaramente ogni contesto è diverso e nel vostro caso bisognerebbe analizzare la situazione diciamo appunto in maniera customizzata. Chiudo solo con un flash, ieri abbiamo presentato questo rapporto qui solo per dirvi se vi interessa andatevelo a vedere, la corsa delle regioni verso la neutralità climatica, ci sono diverse sorprese e tra cui il fatto che purtroppo la Toscana diciamo non è messa benissimo. Però non vi dico altro, uno spoiler per chi è curioso, diciamo sul sito italyforclimate.org, trovate il rapporto, lo potete leggere e vedere. Vediamo dove è messa la Toscana tra quei corritori. Eh guarda, è in alto a destra, quindi diciamo visto che il percorso va in basso a sinistra, diciamo che sta insieme all'Umbria, al Molise, alle Marche, Lombardia, Liguria, insomma è un gruppo di coda. Peccato che il presidente Gianni non ha potuto collegarsi stamattina, sarebbe stato interessante un dibattito su questo, ma magari lo facciamo un'altra volta. Anche perché da quando Barbabella e Italy for Climate hanno fatto questo ranking sono cercati in tutta Italia dalle regioni che vogliono vendicarsi di questa classifica e invece da quelle che invece sono prime nel gruppone sono lottati. Il punto è che la cosa importante del messaggio è che è importante che le regioni siano leader nella transizione energetica, cioè si prendano la responsabilità ma abbiano anche dei strumenti per poterlo fare. Questo è il senso di questo ranking, non è per dire chi è buono e chi è cattivo. Diciamo che le regioni hanno le leve principali per definire le politiche energetiche e climatiche perché gestiscono i trasporti, gestiscono le politiche insidiative e gestiscono molto delle politiche energetiche, a cominciare da tutto il sistema dell'autorizzazione degli impianti. Il problema è che oggi sono poco ingaggiate su questo tema, quindi diciamo mentre noi abbiamo degli obiettivi a livello nazionale che dobbiamo rispettare ma non li raggiungiamo solo con atti governativi del governo centrale, le regioni al momento ancora diciamo non hanno un equivalente dei nostri obiettivi europei sul clima. Ok, io farei un applauso a Andrea Pabella anche perché ci ha sintetizzato in poco tempo una serie di messaggi importanti.